Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi un video così, con questa ripresa, perché ho i miei nipoti a casa da una settimana ormai e quindi il tempo a mia disposizione per girare un video spesa come di solito faccio è veramente pochissimo. Ne sto profittando mentre loro stanno addormento e quindi ho pensato di girare così, infatti c'è la fotocamera bloccata e quindi magari riesco un pochino a velocizzare più la cosa e mi evita anche il montaggio poi in seguito. Quindi inizio subito col farvi vedere le cose che ho comprato. Intanto lo scontrino che è molto lungo e ho speso solo di Eurospin 79,87 centesimi. Iniziamo. Iniziamo da una novità natalizia, alzo un pochino l'inquadratura così vedrete meglio. Allora ecco, sono i calendari dell'avvento dell'Eurospin praticamente. Allora ne ho presi quattro, non perché abbia quattro figli, ma perché due sono per i figli e due, anche se non possono ancora mangiare cioccolata, sono per i nipoti. C'è Gabriele che sta facendo gli occhietti a cuoricino. Allora, quattro calendari dell'avvento, dicevo, erano tutti posizionati davanti alla cassa al costo di ognuno 99 centesimi. Mio figlio si stava per strozzare, ecco. Allora, 99 centesimi e non è solo un calendario così con le caselline con le date, ma c'è proprio la cioccolata all'interno. Questa è la versione blu con cioccolata fondente e la versione rossa con la cioccolata al latte. Io ho preso tutte quante blu. Quindi, come dicevo, due per i miei ragazzoni di casa e due per i nipotini, che anche se non possono ancora mangiare cioccolata, però non ho resistito e glielo ho voluto comprare ugualmente. Poi, pasta. Ho comprato quattro chili di pasta, penne zigate. Vi faccio vedere meglio. Questa è della Tremolini. Questa qua lì l'ho pagata ogni pacco 59 centesimi. Cercavo anche le conchigliette per pasta da minestre, quindi, ma non le ho trovate. Queste provvederò in un altro supermercato. Fecola di patate. L'ho praticamente finita. Ne ho aperto l'ultimo pacco nell'ultima torta che ho fatto e quindi, prima di terminarla del tutto e poi trovarmi senza fare una ricetta, ho fatto già subito scorta. Quindi, due pacchi di fecola di patate, 50 e 500 centesimi ognuno. Cacao amaro. Anche di questo ne ho veramente poco, anzi, credo di averlo proprio terminato nell'ultima torta fatta e quindi subito ho provveduto. Un euro e 89, questa scatola da 250 grammi. Ho comprato anche quattro pacchi di zucchero a velo che non erano inseriti nella lista della spesa di questa settimana, però poi passandoli nel reparto mi sono ricordata che mi manca. L'ho terminato tutto e lo zucchero a velo e quindi l'ho preso quattro pacchi, 49 centesimi ognuno. Ho comprato anche la cioccolata, ho preso questa qua, la classica che prendo sempre, cioccolato extra fondente della dolcianto e anche questa qua, la cioccolata bianca, sempre della dolcianto. 200 grammi ciascuna la cioccolata bianca e invece mezzo chilo quella extra fondente. Dunque sono costate 2,09 euro questa fondente, 1,39 euro ciascuna questa qua a latte. Brioche. Ho comprato queste qua, i farci milk, quindi brioche a latte. Non so se ho fatto l'acquisto azzeccato, mio figlio Francesco mi diceva di cambiare brioche e di prenderne un tipo che io prendevo in passato con la crema a latte. Io non ricordo di aver mai preso queste qua, però queste sono quelle a latte e quindi le ho prese, sperando di aver fatto un acquisto azzeccato come detto prima. E queste sono costate 99 centesimi un pacco. Altra coccola natalizia che ogni anno non manca mai come acquisto prenatalizio sono i mini pandorini, per i ragazzi sempre. Questi invece ne ho presi solo due perché effettivamente i bambini non se li mangiano ancora i miei nipotini. E quindi ho preso solo questi due. E dunque per i ragazzi più grandi, insomma, questa è della Duca Moscati Pandorino. Questi qua sono costati 89 centesimi ogni uno. Poi multivitaminico, quindi vedete solo uno, ma ne ho presi, se non mi ricordo, quattro, se non mi ricordo male. Ne ho presi quattro e ogni uno è costato 99 centesimi. Al banco frigo ho preso il masdam, il formaggio con i buchi, insomma, che prendo sempre, della Land. E questo qua è costato 1,79 euro per 400 grammi di formaggio, una bella fetta. Poi le crocchette di pollo, 2,49 euro per 500 grammi. I cappelletti con prosciutto crudo, questi qua 2,49 euro per un chilo. Poi, altro acquisto che spero di aver fatto bene, nel banco gastronomia. Oggi c'era in offerta il pezzo di grana a 5 euro al chilo ed io l'ho voluto prendere. Sembra un bel pezzo di grana, dall'aspetto veramente buonissimo. Quello che ho preso io, 664 grammi, 3,98 euro. Ah, l'ha scorso un pochino spesso, questo sì effettivamente, però credo che sia comunque normale per un pezzo di grana. E si andrà subito ad essere grattugiato. E poi surgelato per mantenerlo più a lungo possibile. Una cosa che ho comprato per me, che spero piaccia anche poi alla famiglia, è la ricotta infornata, che a me piace veramente tantissimo. Sempre nel banco gastronomia, 2,14 euro. Io l'adoro la ricotta infornata così. E poi... Biscotti gran giorno, ne ho presi due pacchi, da 500 grammi ciascuno. Questi qua mio marito li adora con il latte per la colazione. 1,09 euro ognuno. Poi ho preso i cachi mela, vi faccio vedere subito. Cachi mela che sono qui. Li ho presi all'Eurospin, li ho trovati buoni, belli dall'aspetto. Un bel caco mela. E questi qua ne ho presi quattro. Sono venuti, allora, 1,392 kg, 2,63 euro, perché vanno a 1,89 euro al chilo. Quindi 2,63 euro di cachi mela. E li tolgo via. Sempre nel banco frigo della carne, questa volta, ho preso, allora, la fessa di tacchino 3,63 euro. L'ho presa anche una parte dal macellaio ieri. E vi farò vedere anche ciò che ho acquistato dal macellaio ieri, perché ancora devo sistemare la carne per far porzionarla e surgelarla. Questa, 404 grammi, 3,63 euro. Poi ho preso anche i fegatini di pollo, che a me piacciono tantissimo, a me e a mio padre. Infatti ne ho presi due confezioni per farle. Per me e per mio padre, visto che mi sembrano abbastanza, credo che li manderò anche a mio fratello, perché anche a lui piacciono tantissimo. Ogni vaschetta, questa è 1,54 euro e questa è 1,44 euro. Buone, io li adoro. Poi ho comprato anche i Gordon Blue, per cui vanno pazzi i ragazzi. 2,49 euro sono 4 Gordon Blue. Da cibo ai detersivi, ne ho presi solo questi due. Sono la canteggina, questa qua delicata, della Dexal. E questo qua, l'immancabile, l'inimitabile fino a questo momento. WC, canteggina gel con bicarbonato, ad esempio della Dexal, sbiancante, immediato. Io lo sto usando anche per la cucina, non per il piano cottura vero e proprio, ma per la griglia, per le griglie. Le metto in acqua calda con un po' di questo qua, di canteggina gel scelto nell'acqua calda e devo dire che me li fa tornare nuove. È buonissimo, io lo sto adorando, l'odoro sempre di più. Dunque, la canteggina delicata è costata 1,29 euro, mentre 1,09 euro questa qua, la canteggina gel. E poi ho preso il latte. 8 buste di questo latte, vi faccio vedere solo una busta, tanto sono tutte uguali. 8 buste di latte land parzialmente scremato, questo qua da un litro. Ogni busto 65 centesimi. Poi c'erano in offerta i fazzoletti di carta. I fazzoletti di carta, grandi del risparmio, e ne ho presi due pacchi. Sono 30 pacchi ogni confezione, quindi ne ho presi due, perché comunque è il periodo ora dei raffreddori, delle influenze. Già una parte lo abbiamo passato, ecco, metà famiglia si è ammalata. E quindi comunque sono sempre fazzoletti che servono e se ne vanno. 1,79 euro ciascuno. Poi ho preso due di questa panna già zuccherata da montare. Questa qua è la panna vegetale, fior di natura. E questo qua è costato 1,19 euro ciascuno. Io come ho detto ne ho preso due. Poi ho preso anche lo zucchero. Due pacchi di zucchero. Anche questi man mano che vado consumando quello che ho in dispensa, vado rimettendo quello che manca, ecco. E quindi 65 centesimo ogni pacco. Poi ho preso anche il burro. Però prima di parlarvi del burro, controllando lo scontrino, ho visto che mi hanno stornato 20 centesimi ogni pacco di zucchero. Quindi da 65 centesimi è costato in realtà 45 centesimi ogni pacco. Non me ne ero accorta di questa offerta. Quasi quasi sarebbe il caso di tornare e comprarne qualche pacco in più. Visto che comunque adesso i tempi del Natale, dove si faranno sicuramente più dolci. Comunque tornando al burro. Questo me lo ricordo che era in offerta. E' in offerta burro da 500 grammi, 3,29 euro ogni panetto. Poi ho preso il formaggio spammabile. Questo qua che prendo sempre della Land. Ne ho presi due. Formaggio spammabile, 75 centesimi ognuno. Poi ho preso una novità, mai vista prima. Allora ho preso questa mousse, dessert mousse al cioccolato al latte. Questo qua ne ho presi solo una confezione da 4. E' 89 centesimi ogni barattolino, ecco, insomma. Ogni bicchierino è 60 grammi. Poi ho preso anche, un'altra novità, la crema al cioccolato. Questa qua. Crema al cioccolato, credo che sia un budino. Una crema al cioccolato, sempre 4 bicchieri, da 125 grammi in uno, 99 centesimi. E poi ho preso i Wustel. Vi faccio vedere. Allora, Wustel, ne ho presi due, quattro pacchi. Questi qua della Tobias, pollo e tacchino. Due pacchetti da 100 grammi ciascuno. Sono costati 49 centesimi ognuno, per un totale di 1,96 euro. Poi da questa spesa manca l'acqua. Cioè non la vedete, perché sono comunque due casse di acqua normale, grande. Ed una, invece, quella piccola, da mezzo litro, per i ragazzi che portano a scuola. L'acqua è costata 1,55 euro, quella grande, le due confezioni intere. Quindi il costo intero è 1,55 euro. E invece l'acqua, quella piccola, 2,28 euro. Ok, questa è la spesa quindi fatta all'Eurospin. Prenatalizia, ecco. Non proprio natalizia, ma diciamo prenatalizia. Ci prepariamo al Natale. Continuando con la spesa, perché non è finita qua, sono stata alla Crai e ho ricomprato i caserecci della Dileo, che mi sono piaciuti veramente tanto. E quindi un bel pacco da 700 grammi mi sono costati 1,99 euro. Sto trovando una certa convenienza a comprare queste rispetto ai classici biscotti integrali che compra l'Eurospin. E, ripeto, mi stanno piacendo moltissimo. Mi sento anche molto più leggeri a mangiare al palato. E quindi li ho ricomprati senza tema. E penso che li ricomprerò anche. Mi stanno piacendo veramente tanto. Poi, altro acquisto. Si tratta della carne che ho comprato, come vi dicevo, ieri giovedì e che adesso andrò a sistemare. Cominciamo subito. Qui ho lo scontrino. Ho speso 37,34 euro. Una bella spesina, quindi. Ho comprato il petto di pollo, che è stato un chilo ed è venuto 9,65 euro. Belle fettine di pollo. Poi ho comprato anche la fessa di tacchino. Come dicevo prima, una parte l'ho presa appunto dal macellaio. Sono veramente pochissime. 2,55 euro di fettine. Ne sono venute intere, sono due fette. Poi, invece, il macellaio me l'ha tagliata in due parti. Quindi sono quattro piccole fettine. E' 2,55 euro. Poi ho preso anche le fettine di carne. La noce di vitello. Ne ho prese mezzo chilo, che poi sono venute 650 grammi. 8,96 euro. Belle fettine di carne, di noce, di vitello. Poi ho preso anche la salsiccia. Ho preso questa qua condita. Me la faccio vedere. È condita con formaggio, prezzemolo. Ne ho preso giusto... La faccio vedere meglio. Non la voglio toccare con le mani. Ne ho preso 4 pezzi, ecco, perché sono lagati. Ne ho preso 4 pezzi per farla assaggiare ai ragazzi, soprattutto. Vediamo se gli va. E magari questa la faccio direttamente stasera. Abbiamo anticipato la serata pizza a ieri sera, a giovedì. E quindi stasera, vediamo, faccio la salsiccia così, perché comunque è un alimento molto più fresco che non mi va di surgelare. E quindi stasera questa salsiccia. Vedremo. Vi saprò dire se è piaciuto o meno. A me piace tantissimo. Evito di mangiarla perché è anche abbastanza calorica. Poi ho preso anche il macinato di vitello, che è venuto 794 grammi. 8 euro e 34 centesimi. E poi ho preso anche... Allora, sono tutte e due poppa di magra di vitello. Uno è il macinato. Ecco, senza riflesso, lo vedete meglio. E l'altro è... E credo che sia questo quello che è costato di più, 8 euro e 34. Spezzatino di vitello. Molto tenero. Mi ha detto, lo posso fare sia a spezzatino sia in brodo. Molto tenero. E questo invece è il macinato, che pesa molto di meno. E quindi sarà quello da mezzo chilo, appunto. 558 grammi, 5 euro e 86 centesimi. Questa è tutta la spesa fatta dal macellaio. Mi serviva veramente tanta carne. Manca la spesa fatta dal negozio, quello che vende il pesce surgelato. Perché non sono veramente arrivata ad andare lì. Non so se riuscirò a questa settimana o a trovarla prossima. In questo caso non c'è fretta. Ecco, ancora c'ho qualche trancetto di pesce filetto, quello di merluzzo, in congelatore. Quindi posso consumare benissimo quello. E dunque, torniamo di nuovo con questa inquadratura dei calendari dell'avvento. Voglio concludere così il video. Mi scuso per il disagio che magari vi sto arrecando nel farvi vedere questo video con questa inquadratura che non è la solita. Spero comunque che vi abbia fatto vedere più nel dettaglio ciò che ho comprato e soprattutto le novità come queste che è il calendario dell'avvento. Che è un'idea molto carina sia per fare un regalino, anche non troppo impegnativo, magari quando si hanno tanti nipotini o comunque anche qualche figlio di qualche amico. Insomma, una coccola per niente impegnativa e che sicuramente delizierà i bambini, insomma, li farà felice. Come detto, questo qua è la versione blu, quindi cioccolato fondente e poi c'è la versione rossa, invece cioccolato al latte. Io non avevo notato questa differenza, però poco male perché mi piace il fatto che sia fondente. È arrivato il momento di salutarvi. Io vi auguro un buon fine settimana, vi abbraccio e vi mando un bacio. Ciao!